Mi parli di pepomia? Dottoressa Alzi? E' già al corrente di tutto. Lei ha rapiti? Le menti dei bambini accettano meglio l'indottrinamento. I loro corpi sono più adatti all'accrescimento. Il risultato è stato il super solitato. E grazie al nostro successo, fumo pronti all'invasione dei Covenant. Dottoressa, lei interpreta la storia a suo favore e lo sa. Ha creato gli Spartan per schiacciare una ribellione umana, non per i Covenant. Quando un mondo dopo l'altro perdeva, quando i miei Spartan si trovavano in bilico tra umanità ed estinzione, nessuno badava al perché erano stati originariamente creati. quindi crede che le sue scelte furono giustificate. Ho salvato la razza umana. La mancanza di umanità degli Spartan è stata d'aiuto. Cosa cerca di dire? Gli altri venuti prima di lei erano dell'intelligence navale, ma lei è ben diverso. I rapporti indicano che degli Spartan mostravano periodicamente tendenze sociopatiche, difficoltà a relazionare. I rapporti indicano un ottimo rendimento in situazioni di pericolo estremo. Io ho fornito gli strumenti per questa efficienza. Crede che il Master Chief abbia avuto successo perché in fondo era difettoso? John, cosa c'entra in tutto questo? Lei intende sostituirlo. Master Chief è morto. Il suo Five dice che è morto. Ah ah, che dritto. Gli Spartan non muoiono mai. Il suo errore è considerare gli Spartan strumenti di go. I miei Spartan sono l'evoluzione dell'umanità. Il prossimo gradito. Non deve sottovalutare. Ma soprattutto non deve sottovalutare il luogo. Giordano non deve sottovalutare il luogo. La mia vita è la visione. La mia vita è una visione di fronte con l'usuf. La mia vita è la visione. La mia vita è la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.